Di una cosa sono certo, loro hanno bisogno della nostra protezione, hanno bisogno della vostra attenzione, di questo vi ringraziamo e ringraziamo Sergio dell'Arca di Piera per essere qua oggi con noi, ciao. Ciao, io ringrazio voi come al solito, passiamo subito a far vedere questo tesoretto. Il suo nome è Scilla, lei sì che ha bisogno della nostra protezione perché non vede ed è stato lasciato in canile per questo motivo. Sì, dopo quasi dieci anni di convivenza con un tesoretto così, le cose sono cambiate. Sono cambiate e quindi cosa si fa? Bisogna farla fuori, in una maniera o nell'altra. Lei è ancora andata bene che è arrivata qui e come vedete cerchiamo di farla vivere al meglio secondo le nostre possibilità. Lei ascolta con il naso potremmo dire perché riconosce gli affetti, riconosce la casa, riconosce il cibo con il suo naso e poi con le sue orecchie. Ed è affettuosissima, sembra quasi che proprio, quasi si vergogni di aver bisogno di uno di noi che cerca di condurla per evitare che batta il naso da tutte le parti, anche se cammina piano, però insomma cerchiamo di evitarle questo stress. L'Arca la proteggerà comunque, questo è un periodo difficile, si avvicinerà all'estate, è un momento in cui le persone non hanno l'intenzione di adottare cani perché dicono ma no, devo andare in vacanza, devo viaggiare e tutto e noi insistiamo invece. Certo perché bisogna imparare veramente a convivere indipendentemente dal periodo dell'anno, cioè non è che uno se in primavera mi comporto così, se è autunno o cos'ha. Loro sono degli esseri che sono presenti in ogni momento della nostra vita e quindi come tali bisogna rispettarli e fare in maniera di non abbandonarli. Ringraziamo a tal proposito coloro che hanno adottato a Chloe la cagnolotta protagonista della scorsa puntata, dell'introduzione della scorsa puntata. Sì, la star un po' super agitata come avete visto l'altra volta se vi ricordate, però ha avuto il suo colpo di fortuna e ha trovato già famiglia. Bene, salite sull'Arca con noi e andiamo a vedere la rassegna. I canini e i canini come i Tyson hanno una piccola grande fortuna, i volontari. Bruna è pronta per portarlo a spasso, se lo sta presentando, se lo sta coccolando, questa è una preziosità mica da ridare. Sì, anche perché è una selezione per chi vuole fare il volontario o li ama o non fa questo mestiere, fra virgolette. Adesso sta esprimendo tutto il suo timore nei confronti della cinepresa perché è una cosa che evidentemente gli fa paura, anche se uno che si chiama Tyson non dovrebbe avere paura. Ed ora la signora Franca ci presenta Tyson secondo, anche se il nero è un po' invisibile nei canili. Sì, non è tanto gradito in effetti. Lui adesso Tyson secondo, Tyson nero per far contrasto con il Tyson che è appena passato davanti all'obiettivo. Come carattere sono similari, sono giovani, vivaci. Si possono accettare scommesse su chi andrà via prima, se il biondo o il nero, per far verificare se effettivamente è vero che c'è questa preferenza verso i colori chiari. Nel dubbio tra il chiaro e lo scuro, Pirata potrebbe essere una bella soluzione che ci presenta ora la signora Loretta, un po' timido. Sì, per accontentare tutti però bisogna anche tenere presente che è un discorso un po' di compromessi. Il fatto che se qualcuno è juventino e vede che è bianco o nero, diciamo che potrebbe essere un punto in più. Cerchiamo disperatamente punti di forza. Eh sì, ce le giochiamo tutte, ecco. Se puoi invece del toro è chiaro che resterebbe un po' svantaggiato. No, a parte gli scherzi, Pirata è un fagiolone, è un saltatore. Pensa che abbiamo dovuto mettere una griglia sopra il box perché prende certi salti da far paura. specie quando vede passare le persone. Ma pian piano si calmerà e sicuramente sarà un ragazzo che ci darà soddisfazione. Ed ora Maria Teresa, ci presentare ex dettoriccelo, chissà perché? Forse per il codino, ma non voglio mettere sulla strada chi deve fare l'indovinello. È un simpaticone, molto affettuoso, non è timoroso, però dubbiamente ci va anche il rispetto dei suoi tempi. Adesso si sta facendo il suo giretto che è da stamattina che sta aspettando perché sono usciti degli altri, ma indubbiamente lui sa di avere la prenotazione, quindi a un certo punto si mette lì tranquillo, anche se nella posizione non ideale, però vabbè, l'importante è capirsi e lanciare il messaggio. Sì, poi la funzione primaria del volontario è quella di portarsi a spasso il cane il mattino. Sì, assolutamente. O un pomeriggio. Quando si può, ma comunque è il momento più di soddisfazione, anche perché insieme alla passeggiata inevitabilmente poi ci scappa anche un po' il gioco, le carezze, i cagliari. La vita? Sì, la vita, la vita. Ed ora Laura per Tom in un bellissimo completo nero con finiture in rosso vivace. Sì, gliel'abbiamo imposto perché chiaramente abbiniamo anche le ultime tendenze della moda con quello che è l'abito pratico perché quando ti saltano contro avere l'abito bianco non è esattamente quello che ci sia di più pratico. La nostra speranza è che diventi di moda l'adozione in un canile. Tommino per esempio sembra un piccolo diavolo della Tasmania perché è vivacissimo. Lui ha anche una brutta storia alle spalle, una storia di cattiverie che quando è arrivato qui da noi abbiamo dovuto pian piano cercare di far scomparire dai suoi ricordi e in effetti adesso è tutto un altro cane, per fortuna. Quindi è quasi pronto all'adozione anche se ci vorrà ancora un po' di percorso assieme. Ed ora Marina per Billy sul solito green carpet, un piccolo bao che ti può dare molto, lo sta dimostrando? Sì, è l'ideale per un single perché abbiamo avuto purtroppo una triste esperienza già di un affido in cui c'era marito e moglie e lui ha eletto uno dei due come suo referente e ha creato qualche problema all'altra persona per cui purtroppo è dovuto rientrare qui da noi. Ma adesso speriamo di trovare l'abbinamento giusto, lui se lo merita assolutamente anche se è un po' così nei confronti del veterinario bisogna avere qualche cautela. Però sconfiggere la solitudine è questo lo scopo di Billy? Sì assolutamente, per una persona da sola credo che sarebbe veramente l'ideale. Quindi stiamo spingendo anche in questa direzione per i visitatori che vengono a trovarci in canile e lo stiamo proponendo e non disperiamo di avere veramente qualche buona possibilità. Ad ogni cane tu vorresti abbinare un adottante a Raul? Beh andrebbe anche bene Laura che se li portasse, se l'ho provvisto che vada a morire d'accordo almeno che lo trasferisse anche a casa sua sono sicuro che farebbe un affare. Cercheremo di convincerla a superare questa fase da volontario ad adottante, non sarà facile perché anche lei ha i suoi impegni per carità, però non disperiamo, sarebbe un bel colpo per Raul. E allora Laura dice sono tornata sul nero con Poldo. Eh sì, è obbligata, deve assolutamente abbinarsi proprio per non fare stridere i colori. Noi siamo persone molto difficili sul discorso dell'abbinamento, quindi come vedi Poldo nero, lei nera, il colore del guinzaglio lì è quasi rosso, quindi va abbastanza bene. Dai bello Poldo, dai. Eh Poldo è una favola, lui ama tantissimo essere grattato, fa di quelle voci che sembra che debba ringhiare, però invece poi si butta per terra a prenderle, non lasciarne, non sprecare neanche una carezza assolutamente, tanto sono preziose qui in Canile come fuori le carezze per loro, sono disposti veramente a donare il cuore per un nostro messaggio d'affetto, sincero. E ringraziamo a questo punto Laura e le sue colleghe volontarie, andiamo in chiusura, ok? Ok. Concludiamo con un classico, il cocker. Il cocker? Il raro cocker ormai. Sì, perché andava di modissima fino a 10-15 anni fa, ce n'era solo da scegliere, adesso poi così come il Dalmata, sono quei cani che vanno di moda e poi improvvisamente quasi spariscono. Lui nonostante i suoi 10 anni, vivacissimo, sempre pronto a voler giocare, anche se ha un carattere decisamente forte, per cui bisogna trattarlo con il giusto rispetto, anche se è piccolino, però la sua forza ce l'ha, quindi si fa rispettare tutti gli effetti. E se amate il classico, il cocker fa il caso vostro, altrimenti abbiamo una montagna di cani neri, meno neri, fulvi. Oggi poi è stata proprio la fiera del nero, ma proprio per dimostrare che non c'è nessun problema a scegliere un colore scuro, è come se noi preferissimo una persona solo perché ha gli occhi chiari oppure... Non apriamo il discorso sulle bionde e sulle brune, lasciamo perdere. Mi sento osservato, quindi è meglio no. Certo, l'Arca li protegge, li aiuta, li cura da tutto ciò che loro serve, voi potete dare all'adozione però? Beh, sempre, l'obiettivo è quello lì, quello di tenerli qui da noi è solo un pagliativo, cerchiamo di fargli passare al meglio questo periodo, diciamo così, transitorio, speriamo, e ci auguriamo sempre di trovargli la casa giusta che per loro è la vera soluzione che tutti ci auguriamo. Bene, Sergio, alla prossima, grazie. Grazie a voi tutti, alla prossima, a voi. Grazie a voi per l'attenzione e buona adozione a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. la campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada, perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni. Grazie a voi. Grazie a voi.